E' la prima volta nella storia di questo programma che Anna-Lisa è entrata nel dojo E' nel dojo del maestro Miyagi, maestro, gongola, è contento Guarda come gongola, eh lo so, sa maestro che Anna-Lisa è una sua grande fan? Veramente? No, veramente maestro, io l'ammiro moltissimo Anche io, grande fan di Anna-Lisa Bene maestro, quindi che cosa dice? Vogliamo far fare una pirla di saggezza ad Anna-Lisa invece che farla fare a lei? Farebbe grande onore per Miyagi Grande onore ad Okinawa? Va bene Sì, Anna-Lisa, tu hai pirla di saggezza? Io, sì, mi sono preparata Grande allievo Anna-Lisa Mi sono preparata Dai, ok, sentiamo Ricorda Daniel-san, se vedi lei che bacia lui è amore Eh sì, se vedi lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me è mon amore Ragazzi, grazie ad Anna-Lisa che è stata la nostra ospita dei Peggio più Peggio Andate tutti ragazzi Grazie a voi Grazie a voi Ciao Anna-Lisa, torniamo domani a mezzogiorno Vi lasciamo con il Guarini della Franchi Show Ciao a tutti Torni domani, vuoi tornare domani? Torna con me Grazie a tutti